La compagnia aerea EasyJet punta su Napoli e dalla primavera 2014 aprirà a Capodichino una nuova base operativa, la terza in Italia dopo quella di Milano-Malpensa e Roma-Fiumicino. Aumenteranno dunque le destinazioni per chi vola dal capoluogo campano. Alle 15 rotte già operative, EasyJet affiancherà 5 nuovi collegamenti. Si tratta di Hamburgo, Bruxelles, Catania, Mykonos e Corfu, raggiungendo così 130 voli settimanali. Napoli diventa in questo modo la nostra terza base in Italia. Siamo estremamente orgogliosi di poter fare un investimento in un momento così importante, di essere quindi partecipi e contributori a quello che è il rilancio dell'economia locale poiché contiamo di trasportare 2 milioni di passeggeri alla fine del primo anno delle operazioni, metà dei quali saranno turismo incoming. La scelta di aprire a Napoli la nuova base aerea rappresenta un investimento importante non soltanto dal punto di vista turistico ma anche occupazionale. La compagnia creerà circa 30 posti di lavoro per assistenti di volo e piloti ed ulteriori 400 all'interno dell'indotto. La novità è stata annunciata questa mattina alla presenza del sindaco Luigi De Magistris e dell'amministratore delegato di Gesac Armando Brunini. Bella notizia per la nostra città, il nostro aeroporto innanzitutto perché aumenta il flusso sia per ragioni di lavoro ma anche sul turismo sul quale come voi sapete noi investiamo molto. E poi anche quello che mi sembra straordinariamente positivo che ci siano investimenti della nostra città che hanno ricadute dirette sul lavoro e su tutto l'indotto. Abbiamo fortemente voluto la metropolitana che arriverà fra tre anni anche all'aeroporto, un investimento di un miliardo di euro con un accordo fatto con il governo e la regione che io ho personalmente molto voluto, una riqualificazione anche dell'area esterna, insomma quindi un grande investimento. Io ringrazio EasyJet che ha puntato su Napoli in modo strutturale. Questa è la nostra risposta alla crisi. Sono stati mesi di lavoro, siamo molto contenti che EasyJet ha fatto questa scelta, è un investimento importante ma noi siamo sicuri che porterà buoni risultati per la compagnia in termini di traffico e opportunità di voli per i cittadini.